Partito il secondo trofeo Topolino di calcio nella splendida culla e casa della Valle d'Aosta. Molto più di un semplice torneo, l'unico torneo di calcio riconosciuto e sponsorizzato ufficialmente dalla Disney, il trofeo Topolino è una manifestazione da grandi numeri. 180 squadre, poco meno di 2000 giovanissimi giocatori, più di 600 partite da disputare. Con la giornata conclusiva delle finali di domenica 16 giugno allo stadio Mario Puccio di Aosta, per conoscere chi, dopo i Liguri della Pro Imperia, Pulcini 2001, i Lombardi del Mantua 2002 e i Toscani della Lucchese 2003, vi scriverà il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. La seconda edizione del trofeo Topolino calcio Aosta 2013, in programma dal 14 al 16 giugno in 17 comuni della Val d'Aosta, sarà la prima volta per gli esordienti 2000-2001 e per i piccoli amici 2005-2006, categorie che si vanno ad aggiungere i Pulcini quest'anno 2002-2003-2004. 10 le società interessate nell'organizzazione, Aigreville, Charvenso, Saint-Christophe Val d'Aosta, Fenusma, Carte, Grand Comben, Mont Cervino, Aosta-Pollein, Grand Paradis e Manson. Gressan è anche il centro neurologico di tutto il torneo, dalla base logistica, alla comunicazione e alla ristorazione, oltre a essere il fulcro delle attività ludiche, tutti i giorni, con l'animazione del villaggio Topolino. Animatori, truccabimbi, disegnatori Disney e tantissime sorprese per tutti. Trofeo Topolino Calcio che è grande spettacolo, oltre a quello offerto nei campi di gioco, dall'accompagnamento musicale della band Revisione ai Lorange in concerto e poi spettacoli di cabaret, danza e intrettenimento con un disegnatore Disney.